Ciao amica, ciao amico, mi chiamo Marcello Secco, faccio questi video perché sono un appassionato di moto seguimi perché sul canale parliamo appunto di moto e oggi sto registrando proprio perché in questi giorni si corre la Dakar siamo nel 2023, gennaio 2023 e sono andato a riprendere appunto le vecchie moto da Parigi e Dakar, quando si correva appunto da Parigi e Dakar degli anni 80 e 90 in particolare oggi ti parlo di Gilera RC600 del 1991 quindi siamo in quell'anno quando Gilera, malgrado le altre case costruttrici abbiano esasperato ormai le moto con prototipi vuole dimostrare che è ancora possibile partecipare alla Parigi e Dakar con una moto semplice tutto sommato poco costosa, direttamente derivata dalla moto di serie quindi partendo dalla moto in produzione ad Arcore hanno apportato delle modifiche molto limitate che hanno più che altro consentito di irrobustire alcuni particolari e con accessori specifici appunto per la gara quindi vediamo senz'altro la moto in questa bella immagine che vedete si presenta nel classico bel colore rosso di Gilera la moto è dotata di un motore monocilindico 4 tempi di 569 cm3 con la distribuzione bialbero in testa e comandata da una cinghia dentata con 4 valvole per cilindro e quindi 4 valvole alimentata da 2 carburatori raffreddamento e a liquido l'accensione di tipo elettronico con anticipo automatico variabile il telaio monotrave sdoppiato in acciaio cromo molideno con rinforzi in lamiera la parte posteriore poi è di tipo smontabile la sospensione posteriore adotta un forcellone in lega leggera e un mono ammortizzatore supportato dai cinematismi progressivi del sistema denominato Power Drive uno dei problemi è dato proprio dovendo appunto modificare la moto dalla sistemazione del carburante perché aggiungere molta benzina al carico della moto si traduce in problemi di ripartizione del peso soprattutto perché quando i serbatoi si svuotano cambia la distribuzione dei pesi sulla moto quindi la moto viene fornita di tre serbatoi quello principale in posizione classica diviso in due parti separate contiene poi delle parattie antisbattimento con i due laterali posizionati dietro le fiancatine la capacità quindi complessiva raggiunge 56 litri l'alimentazione dei serbatoi carbonate avviene tramite una pompa di benzina per la benzina un'altra caratteristica relativa al deserto riguarda la varietà dei fondi perché si passa appunto da parte in cui ci sono le rocce appuntite alla sabbia quindi i cerchi pneumatici risultano tra gli organi più sollecitati la gilera RC600 adotta quindi un cerchio particolare in lega e i pneumatici Michelin adottati dello speciale mousse antiforatura la marmitta di scarico è stata sostituita con due tromboncini più liberi il filtro dell'aria è stato modificato per diminuire ovviamente i problemi dovuti alla polvere infine il paracoppa è stato sostituito e integrato con un serbatoio d'emergenza per l'acqua potabile bene quindi se ti è piaciuto metti un like se non ti è piaciuto metti dislike ma iscriviti al canale e attiva la campanella per due motivi primo perché è gratis secondo perché faccio un video al giorno così sei sempre aggiornato qui sotto i tuoi commenti sempre graditi ciao buona serata